buongiorno buongiorno a tutti eccoci nuovamente insieme per gli ultimissimi aggiornamenti un aggiornamento flash ma come sempre mi raccomando premiate la tempestività dell'informazione con un bel like iscrivetevi al canale e alla pagina ma soprattutto condividete in tanti per fare arrivare il video a tantissime altre persone come potete notare dallo screen che vi ho appena posto ci sono le date per il pagamento del bonus da 350 euro sfl come potete notare 27 settembre per il pagamento della mensilità di settembre ripeto pagamento per il bonus sfl supporto per la formazione di lavoro da 350 euro mensilità di settembre per tutti coloro che hanno e lo ricordo sempre i corsi attivi chi ha i corsi non attivi ha il pagamento interrotto se non attiva i corsi se non inizia i corsi i pagamenti non arrivano solo